E' Pietro Lupo, 22enne di Pertosa, il ragazzo che ha perso la vita ieri sera a Polla. Un bruttissimo incidente stradale ha spezzato la sua giovane vita. La tragedia è avvenuta in Viannia, dove si sono scontrate la moto guidata dal giovane e una Fiat Bravo con a bordo una coppia di Caggiano. Le cause dell'incidente sono da accertare. Ciò che però è apparso subito chiaro ieri sera ai soccorsi allertati, c'era il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, è che la situazione fosse grave. Un medico del 118, arrivato sul posto durante le operazioni di soccorso, ha avuto un malore. Una tragedia, la terza di questo agosto di sangue sulle strade del comprensorio, dove a inizio mese hanno perso la vita nella stessa giornata, prima il 23enne di buon abitacolo, Mario Monaco, in un incidente a Sala Consilina, e poi Antonio Zienna, 27 anni, di Polla, sulla strada statale 19, tra Polla e Atena. E ora Pietro Lupo, il ragazzo ha avuto la peggio nello scontro di ieri sera, in cui sono rimasti feriti anche i due che si trovavano nell'auto. La donna, seduta al lato passeggero, è stata tirata fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata dal 118 all'ospedale Luigi Curto di Polla, insieme al marito che era alla guida. Entrambi ricoverati in rianimazione. Lei poi è stata trasferita a Napoli. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni. Per il 22enne di Pertosa, invece, non c'è stato niente da fare. Morto poco dopo l'incidente, troppo gravi le ferite riportate.